Allora, siamo qui che dobbiamo fare questo promo per lo spettacolo. Siamo vestiti per un'intervista doppia, tipo Iene. Mi ha fatto bene a metterci in giacca e cravatta. Allora, nome? Francesco Petacco. Andrea Di Marco. Professione? Enologo. Comico. Quindi facciamo questo spettacolo che diciamo è enogastrocomico. Dove sei il 24 di luglio prossimo? All'ora 21 sarò a Dolceacqua. Perì, anch'io. Per far cosa? Attenti a quei DOP. È uno spettacolo. Assolutamente. Quei DOP, siamo noi, no, noi siamo quei due. I DOP, parleremo di DOP, tipo il basilico genovese, DOP, i vini dell'Enoteca, regionale, regionale Liguria, eccetera. DOP, olio, Rivera Ligure, DOP. Parliamo di basilico ad esempio. Il basilico genovese, DOP, è coltivato in tutta la Liguria. Sì, ma la pianta da dove viene? Dall'India. Tutti i giorni? Per il tuo sbattone. Parliamo di olio. Come si assaggia l'olio Riviera Ligure e DOP? Con lo strippaccio. Che sarebbe? Come quando mia nonna beveva la minestra, diceva, eh, metto casciurbi. Così è l'olio. Riviera Ligure e DOP. Parliamo di vino. Parliamo di rossese di dolce acqua. Un aggettivo per definire il rossese di dolce acqua. Belli. Ci vediamo il 24 luglio, domenica, dolce acqua. Ore 21. Ore 21. Francesco Petacco e Andrea Di Marco. Attenti a quei DOP. Questa era un'intervista DOP. Grazie. Grazie.